esercizio di percezione delle dita. Per preparare le dita alla presa del lado nel gioco di magia proponiamo questo esercizio. Quello che ci occorre è un rialzo da porre sotto l'avambraccio, noi abbiamo preso un asciugamano arrotolato per facilitare il rilassamento della mano. Ad occhi chiusi toccherò un dito della mano e il bambino dovrà riconoscere che il dito ha toccato. Vieni Mario, mettiti qui in ginocchio, ok stai bene dritto su, mettiamo il braccino qui sopra, ok ora chiudi gli occhi, ti sto toccando, che dito ha toccato? Bravissimo, ok, meglio, ti faccio sentire il medio, questo è il medio, io ho toccato questo, che dito è? Questo è il medio, questo? L'alluce, questo è l'anulare, senti? Ok, ancora, ancora uno, questo qui è il medio, questo qui è l'indice invece. Ok, apri gli occhi. Esercizio di cinestesia delle dita. In questo esercizio facciamo sentire tre diversi tipi di movimento fatto con un dito della mano, un movimento dall'alto verso il basso, uno da destra verso sinistra e un movimento circolare. Muovo poi passivamente un dito della mano plegica del bambino e chiedo di riconoscere oltre a quale dito sto muovendo che tipo di movimento sto facendo. Vieni Mario, mettiti in ginocchio, ok, mettiamo il braccino qui sopra, ok. Ora chiudi gli occhi che ti faccio sentire tre movimenti. Facciamo un movimento su e giù, uno da destra verso sinistra e un cerchio, ok? Ora mi devi riconoscere che movimento sto facendo e con quale dito? Che movimento sto facendo? In qua e là, con che dito? Con il pollice, benissimo. Adesso un cerchio con il mignolo, bravissimo. E qua e là con l'anulare. Qua e là con l'anulare? Perfetto. Adesso? Il medio. Il medio. Che disegno sto facendo? Il cerchio. Il cerchio. Ultimo. che movimento sto facendo, Mario. Hai spirciato. Lo rifacciamo. Chiudi gli occhi. Pollice. Il pollice? Su e giù. Su e giù. Benissimo. Apri gli occhi. Immagine motoria dei movimenti delle dita. In questo esercizio chiediamo al bambino di scegliere uno di questi movimenti fatto con un dito della mano. Lo deve immaginare ad occhi chiusi. Poi io muoverò in maniera passiva facendogli compiere uno di questi movimenti e lui dovrà dirmi se quello che aveva scelto corrisponde a quello percepito. Vieni, Mario. Allora, metti il braccino qui sopra. Mettiti prima il ginocchio. Ok. Adesso devi scegliere un movimento fatto con un dito della mano. Quindi, o il movimento su e giù, o da destra a sinistra, oppure il cerchietto. Ok? Senza dirmelo. Chiudi gli occhi. Immagina che io ti muovo il dito. Ok. Ce l'hai? Vado. Adesso ti muovo io un dito e mi devi dire se è quello che avevi scelto tu. Ok. È questo? No? Aspetta che ci riprovo, eh. nemmeno questo? Ok. Cos'è che avevi immaginato? Il pollice. Il pollice? Proviamo, eh. È questo? Quindi avevi scelto il cerchio con il pollice. Va bene. Esercizio per l'articolazione del polso e per il raggiungimento dell'oggetto. In questo esercizio utilizziamo i quattro oggetti utilizzati nel gioco di magia, disponendoli in fila appoggiati sul tavolino. Abbiamo il bicchiere, il coperchio, il dado grande e il dado piccolo. Accompagnerò l'arto sinistro di Mario verso il raggiungimento, verso tutti e quattro gli oggetti in un primo momento per poterli far memorizzare. Poi ne metterò uno al centro, glielo farò raggiungere con la mano e lui dovrà riconoscere concentrandosi sul diverso grado di flessione dell'articolazione del polso. Vieni Mario. Allora, mettiti in ginocchio. Abbiamo i quattro oggetti usati nel gioco di magia. Il bicchiere, il coperchio, il dado grande e il dado piccolo. Ok? Ora te li faccio sentire. Chiudi gli occhi. Questo è il bicchiere. Chiudi, eh? Questo è il coperchio. Questo è il dado grande e questo è il dado piccolo. Ok? Ora te ne faccio sentire uno e tu mi devi riconoscere qual è. Questo che cos'è? Il dado grande. Il bicchiere. Non è il dado grande. Adesso ti faccio sentire il dado grande. Questo è il dado grande. Cos'è che è diverso? La posizione del brazzo. Lo sentivi che il bicchiere era un po' più in alto? È qui, è il polso che è diverso. Ok, te ne faccio sentire un altro. Tieni gli occhi chiusi, rilassa il braccio Mario. Rilassa, rilassa, rilassa. Qual è questo Mario? Il cerchio. Il cerchio? Il coperchio. Ok. Il caro piccolo. Aspetta Mario, devi aspettare che io mi fermo. Non barare. Ok. Ancora una volta Mario. Questo che cos'è? Il baracolo. Ok, perfetto. Esercizio per la presa. Anche in questo esercizio utilizzeremo i quattro oggetti utilizzati nel gioco di magia. Questa volta però accompagniamo il gesto della presa. Il bambino dovrà riconoscere quale oggetto gli sto facendo prendere ed eventualmente anche con quali dita. Vieni Mario. Allora, mettiti bene in ginocchio. Ok, qui davanti. Allora, adesso ti rifaccio sentire questi oggetti. Li andiamo a prendere. Allora, chiudi gli occhi. Ti faccio sentire il bicchiere. Ricchiudi Mario. Senti bene. Questo è il bicchiere. Ok. Poi abbiamo il coperchio. Questo qui è il coperchio. Lascia Mario che cambiamo l'oggetto. Questo invece è il dado grande. Ok. Lascia fermo l'altro braccio Mario. L'altro braccio deve stare fermo. Rilassato. Ok, adesso sentiamo il dadino piccolino. Lo senti? Ok. Adesso mi devi riconoscere che oggetto prendiamo. il coperchio. Attento, ti faccio sentire il coperchio. Questo è il coperchio. Io invece ti ho fatto sentire questo. Questo è il bicchiere Mario. Lo senti? Com'è diverso? Ok. Ancora. No. Come no? Rilassa il braccio Mario. Metti il braccio destro giù. Fermo. Questo che cos'è? Il tappo. Il tappo, no? Il dado grande. Il dado grande. Bravissimo. Adesso Mario, prova un po' a dirmi anche con quali dita. Con quali dita ti faccio prendere l'oggetto? Con il pollice. Ok. E poi? E l'indice. Ed è il bicchiere. Bravissimo. Ancora. Questo invece che cos'è? Il tappo. Benissimo. E con quali dita lo stiamo prendendo? Con tutte. Tutte le dita. Perfetto. Ok. Apri gli occhi Mario. In questo modo il bambino riesce a riconoscere l'oggetto che sta prendendo analizzando le informazioni che provengono dalle articolazioni della sua mano. Quindi vari rapporti tra le interfalangee e le metacarpofalangee. Per riconoscere le dita invece dovrà concentrarsi su informazioni di contatto e informazioni cinestesiche. Esercizio per la presa e per la presa di coscienza della linea mediana. In questo esercizio utilizziamo un cartellone quadrettato di questo tipo appoggiato sul tavolo. Ad occhi chiusi poniamo il bicchiere utilizzato nel gioco di magia in uno dei riquadri. Facciamo prendere il coperchio con la mano debole e accompagniamo il gesto del chiudere il bicchiere. Spostiamo il bicchiere e chiediamo di riconoscere in quale punto del riquadro si trovava. Vieni Mario. Allora, mettiti in ginocchio. Ok, bene così al centro. Devi abbassare l'altro braccio. Quindi questo braccio qui lo teniamo giù. Allora, come vedi abbiamo tanti quadrati. Ora metterò... Abbiamo pure i numeri. Sì, però per ora non li leggiamo. Tu guarda soltanto tutti questi quadrati. Quindi abbiamo due righe a destra e due a sinistra. Devi riconoscere dove mettiamo il bicchiere. Io te lo faccio chiudere. Ok? Allora, prima prendiamo il coperchio con la mano sinistra. Ok. Adesso chiudi gli occhi, Mario. Andiamo a chiudere il bicchiere. Così. Ok. Tieni gli occhi chiusi, eh. Ok. Apri gli occhi, Mario. Dov'era secondo te il bicchiere? qui. Sicuro che non è sbirciato? Ok. Adesso lo rifacciamo, eh. Prendi bene il bicchiere, abbassa il braccio destro, giù lungo il fianco. Ok. Tieni gli occhi chiusi. E andiamo. Chiudi gli occhi, eh. Ok. Apri. Dov'era questa volta? Vuoi che te lo faccio risentire? Ok. Ok. Lo rifacciamo, eh. Chiudi gli occhi. Prendiamo bene il coperchio e andiamo. Bravissimo. Ok. Facciamo un'ultima volta? Allora, chiudi gli occhi, abbassa il braccio. Vado. Dov'era, Mario? Perfetto. Bravissimo. Elevazione e abbassamento di spalla più velocità. In questo esercizio facciamo sentire al bambino occhi chiusi un movimento di elevazione e abbassamento della spalla a tre velocità diverse. Uno ad una velocità alta, uno a bassa velocità e uno ad una velocità intermedia. Questo esercizio è utile per allenare il cervello al controllo della reattività abnorme allo stiramento, che è una reazione velocità dipendente. Quindi tanto più movimento effettuato in maniera rapida, tanto più è facile che si inneschi un aumento del tono muscolare. Quindi farò poi sentire uno di questi tre movimenti al bambino e lui dovrà riconoscere il grado di velocità. Allora, Mario, chiudi gli occhi, ti faccio sentire tre movimenti diversi. Muoviamo la spalla, alziamo e abbassiamo il braccio. Così è un movimento lento, lento, così è un movimento veloce, questo è un movimento normale. Ok, rilassa il braccio, ti muovo io, mi devi riconoscere a che velocità ci muoviamo. Via. Piano, piano. Piano, piano. Veloce, veloce, veloce. Perfetto. Normale. Normale. Ancora una volta, Mario. A un mare. Più lento era. Veloce. Veloce. Piano. Normale. Ok.